Musica Hello guys, Renner here! Benvenuti in questo nuovo video qua in FTB Ah, scusate un po' l'assenza per questa serie Ma stavo aspettando che mi arrivassero un po' di commenti per le sfide Allora, prima di tutto qua si sta ancora caricando Il nostro bellissimo jetpack, giusto? Oh yes, oh yes, il backpack, chiedovenio Ma secondo me si è buggato qualcosa Perché guardate, continua a caricarsi Assolutamente sì, continua a caricarsi Vabbè, comunque lasciamolo caricare e poi vediamo Allora, abbiamo la sfida oggi di Giacomo Che ci dice, crafta un MFE Quindi andiamo a vedere come si fa un MFE Perché giustamente non ricordo Allora, si fa con i quattro cavi d'oro che dovremmo già avere Se non ricordo male Scusate, cavi d'oro Ma li ho usati? Bro, non mi ricordo proprio, devo dirvi la verità Ah no, 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 ce le abbiamo qua Ho quattro cavi d'oro, abbiamo detto Un MASHING BLOCK E dei ENERGY CRYSTAL Ecco, questi sono un problema Perché gli ENERGY CRYSTAL si fanno con i rubini E noi abbiamo solo due rubini Abbiamo due rubini e abbiamo pochissimo oro Quindi Quindi, quindi, quindi Non lo so Forse non ci conviene in realtà molto farlo Devo dirvi che forse in realtà non ci conviene farlo Assolutamente Non lo so, davvero non lo so Allora, prima di tutto passiamo alla seconda parte In cui ci dice Crea una Tartula Quella in realtà ci è molto utile E per quanto sia più costosa in realtà dell'MFE Perché ci richiederà un piccone di diamanti Sarà molto molto più utile Quindi Almeno per il momento, ovviamente E quindi, niente Cerchiamo di fare questa Tartula Ci serve un pezzo di ferro che qui Ok, ne abbiamo 7 Poi dobbiamo fare Allora, Redstone della Stone Quindi Qui, grazie mille Allora, cuociamo il tutto, il cazzo Perché qua non c'è nulla Qua, ma si sta Ah, giusto Non è che si è buggato Ci sono solo arpanne al fuori Ma quanto sono coglione anche io Eh, vabbè Mettiamogli un po' di carboncino qui Che ci va a alimentare il tutto No, togli le patate Le patate Le patatos Le patate Ok Ci servono 7 pezzi Vediamo Non mi ricordo mai Sono 7 pezzi Ok E del vetro Del vetro Ci servono 6 pezzi di vetro In realtà Abbiamo della sabbia Assolutamente si Allora, aspettate Abbiamo praticamente Della Dirt Che diventerà della cobblestone Con la nostra minimum stone Che dove cazzo Eh, dannaggio Dove cazzo è qui Allora, abbiamo detto Un po' di cobblestone Ce ne servono 6 pezzi 6 pezzi che diventano Questi Che diventano questi E giustamente La devo Comunque cuocere Scusate per Per la La tosse guys Ma Purtroppo Sono l'unico che In estate Riesce a prendersi la tosse Cioè davvero Io ho un'abilità innata Riesco ad ammalarmi Nelle stagioni più impensabili E Che cosa ci vogliamo fare Molti di voi Mi avete detto anche Di Andare A fare Uno smistamento chest Con cartelli Eccetera eccetera Lo faremo Lo faremo brothers Voi non preoccupatevi Io lo faccio tutto Mi dovete solo dare Un po' di tempo Allora Facciamoci Dammi questo legno Dammi il legno Grazie Perfetto Allora ci andiamo a fare Una chest Perché senza chest Non si può fare nulla Benissimo Ok Questo lo mettiamo a posto Abbiamo detto Ci serve Per la tartor Questo così Questo Così Perfetto Qua invece ci serve Questo qua Questa roba Così E poi dobbiamo andare A fare il vetro Che i vetri Giustamente Se poi Ah ma ce l'avevo qua Cinque Vabbè comunque non mi bastava Perché ne servono sei Se non mi sbaglio Eccoli qui Glass panel Pain Pan Pan Bing Allora abbiamo fatto Un computer Dal computer Andiamo a mettere Questa roba Qui Facciamo No facciamo Così Perfetto E Ci manca La chest Ok Tartor Adesso Alla tartor Dobbiamo mettere Un piccone In realtà Possiamo mettere Anche un piccone Che non sia Un piccone di diamanti Ci metterà più tempo A rompere la roba Ma possiamo mettere Anche un piccone Che non sia Un piccone di diamanti Però Io vorrei fare Le cose fatte per bene Quindi Quindi vado Per il piccone di diamanti Allora Sono dodici Abbiamo detto Allora Aspettate Abbiamo Qui Ehm Dodici Quindi sette Ne abbiamo già Sono tre E sono Ok Quindi Così dovremmo essere A posto In teoria Facciamo Diventare Perché sono quattro Sì sono tre Perfetto Ci servono due Bastoncini Meno due bastoncini Due bastoncini Sì che li abbiamo Due bastoncini Li abbiamo Li abbiamo Li abbiamo Due bastoncini Tu 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 Bastoncini Fildus Dun 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 Chi di voi Non ha mai mangiato I bastoncini Fildus Bro sono Cioè Praticamente Sono un pezzo Di storia Di Dell'Italia Bastoncini Fildus Non so se li fanno Anche all'estero Cioè Sicuramente li fanno Anche all'estero Ma non so se si chiamano Bastoncini Fildus Non penso Esiste La Fildus All'estero Io non potrei Vivere senza Fildus Mi sentirei Spiazzato Non sarei più A casa Oh Finita di sparare Le stronzate Ci prendiamo Un po' Di coal Perfetto E andiamo A piazzare Questa bellissima Tartle Perché 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 Come ci dice Il nostro Amico Giacomo Nel commento Che è apparso All'inizio puntata Se noi Non andiamo A scavare Ma mandiamo La Tartle A scavare Per noi Evitiamo Una possibile Morte E effettivamente Lui Si che c'ha ragione C'ha la vista Lunga Allora ci facciamo Il giro Perché da qui Mi sono dimenticato Che qua Dobbiamo ancora Sistemare Tutto Dobbiamo ancora Sistemare Tutto 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 Io quasi quasi Ce lo metterei Proprio qui Vi devo dire Perché qui So che c'è Una caverna Una caverna Perché ci vado A scavare A scavare Anzi la mettiamo qua Allora contando Che quella è casa Ah ma non c'ho la cesta Dove Porca puttana Mi son dimenticato La cesta E te pareva Corri Corri Allora la cesta Come la possiamo fare Perché Avrebbe un senso Fare una cesta Grossa Da poter tenere lì Per I nostri Il nostro tutto Ecco Una cesta Grossa Però non so Se possiamo farla Prima di tutto Ci serve Del legno Quindi Senza di quello Ma sa che non facciamo Proprio nulla Legno Ci serve Il legno Ci serve Proprio Tanto Legno Ho preso Il legno Proprio Il legno Eccoci qua Allora Facciamoci Sta cesta Cesta Mi ero dimenticato Che ce l'avevo qui Vabbè Non fa nulla Allora Facciamo così Poi 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 La possiamo fare Sicuramente di ferro Quindi Sferriamo il tutto Benissimo La possiamo fare d'oro Secondo voi Ci conviene Farla d'oro Tan 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 Domanda Domanda Da mille miliardi Di milioni Di euro Penso di si Penso purtroppo Di si Allora Fermi tutti Ah il ferro Però ce ne serve un botto Per farlo di Ecco Ci serve Come cazzo facciamo Ci servono troppi No non ce la facciamo Bro Non riusciamo Avrei tutto Lender perlo Ora che ci penso Potrebbe tornarci utile Ci devo Mi devo inventare qualcosina Comunque per adesso Lasciamola di ferro E la È caduta La notte Ci prendiamo la cesta Andiamo a nanna Nanna Grazie per la nanna Tuturutututu Eh si Però dormi Perché Ecco Grazie Abbiamo un personaggio Che è molto pigrone Bro Davvero molto Molto pigrone Allora Lasciamo questa roba a casa Ok E andiamo a piazzare Questa roba qui Allora Stavamo dicendo Che mettendo La nostra tartola A scavare per noi Effettivamente Noi riduciamo Per adesso Almeno Non la probabilità Di morire Che effettivamente Deve essere Il nostro Eccolo Guardate lì L'albero Che si sta Smolecolando Dopo la mia Scavatura Scavosa Allora Allora Noi mettiamo Questa qui Giusto Ci mettiamo Questa qui E diciamo Excavate 5 Fuel Qui E vada Per dove devi andare Praticamente Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' La c'è La c'è un ragno Eccolo lì Il ragnetto Ciao ragno Sei bellissimo Vediamo che cosa fa Ok perfetto Allora qua ci fa il buchetto Non ci interessa che c'è un bel buco davanti casa Ma almeno abbiamo fatto una tarto Allora A questo punto Dobbiamo vedere se riusciamo a fare quel Quel bellissimo MFE Che potrebbe tornarci utile Anche se Quasi quasi Io in realtà Brothers So che è una sfida Quindi dovrei farlo Però con i solar panel che abbiamo Davvero Cioè Mi sembrano sfregge Per l'MFE Vabbè Prendiamo qua Prendiamo qua Prendiamo giù Prendiamo su Allora Qua quanti pezzi di oro abbiamo in tutto Abbiamo questi quattro pezzi E basta E E il resto dell'oro Avevo ancora qualcosina io in oro Se non mi sbaglio Scusate No Non avevo più un cazzo in oro Quindi Abbiamo quattro Ci servirebbe fare Praticamente Con il ferro che abbiamo Ci servirebbe fare Altri Altri quattro Pezzi Di ferro Di oro E Per fare questa MFE Allora Aspettate 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 Sì L'unica cosa che possiamo fare Niente Cuociamo tutto questo ferro E lo facciamo diventare oro Con la speranza Che la nostra Tartle Ci trovi un po' di ferro Io comunque Ma questo è tin Cazzo Non ho il ferro Cioè io Ero stra convinto A questo Era ferro Bro Siamo senza ferro E no Allora non possiamo farla Ero Ero convintissimo Che questo fosse ferro E invece è tin Ah che cosa strana Abbiamo finito il ferro Mmm Niente bro Allora non possiamo farlo Assolutamente Non possiamo farlo Perché 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 Iron Vediamo subito Non possiamo farlo Nessun modo Vero questo Trasmutando qualcosa Assolutamente no Ah Dell'ossidiana Mmm Ossidiana Fermi Ho un'idea Andiamo 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 All'escavar Torno subito Dopo che ho preso Tipo tutta la legna Che c'è qua Torno E due secondi Ok guys Allora siamo qui Abbiamo preso 40 pezzi Di legname Eh giustamente Non c'ho la minion storm Dove cazzo Minium Oh C'ho la qui Allora Abbiamo detto Avendo la minion storm Non possiamo fare Questa roba qui Giusto Che fatta così Ci diventa del ferro Ok Perfetto Questo ferro Noi ce ne sbattiamo Un po' il cazzo De questo ferro Mmm Lo possiamo far diventare Allora Fermi tutti Abbiamo detto Ce ne servono Altre due Quattro Dannazione Bros Dannazione Siamo un po' Messi nella cacca Abbiamo due Vabbè io devo andare A fare Altre Altra legna Mmm Mmm Non abbiamo niente Che diventa Ossidiana Vero Ossidiana 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 Il chainsaw 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 Però Per adesso Meglio di no Perché il backpack Voglio usarlo solamente Per andare Per quando andrò in miniera Con tutto che ho fatto Il diamond reel E la tart All'intendo Però Comunque vorrei usarlo Per andare più che altro In miniera Quindi Oh che cazzo Uno scheletro Tu resta là Bellissimo Non mi hai visto Resta lì proprio E Non ho neanche più Ho cibo appresso Sì che ho cibo appresso Mangia Mangia Renna Mangia Questi sono i rischi Di una renna In hardcore Oh yes Perfetto Pappato Allora dicevamo E poi mi andrò a prendere Tutti i pezzi Degli alberi Che lascio Non riesco a prendere Ovviamente Ora Li faccio solo Molto alla buona Perché Mi serve del legno Da trasmutare In obsidiana Devo andarmi a studiare L'impianto Quello Della legna Quello che c'aveva Anche Luke Nella scorsa Serie Perché Quello Mi tornerà Molto utile In questo In questo Gameplay Immagino proprio Di sì Immagino proprio Di sì Brothers Ok Ok Perfetto Allora abbiamo Questi qua Che uniti a questi qua Forse ce la facciamo Giusti giusti Tre Tre Quanti sono qua Sette No me ne manca uno Ma davvero Me ne manca uno Bros Me ne manca Assolutamente solo uno Solo 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 uno No dai No 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 Dai Eh Vabbè Mi manca Praticamente Boh Prendo un altro po' di legna E riattacco Ok guys Allora ho preso Un po' di Tipi di Legna Diversi In realtà Quindi questo in realtà Ci conviene davvero Farlo così Fermi tutti Perché questi li vediamo Così Altra ossidiana Perfetto Questi sono Dieci e dieci E vadi Allora con questa Dovremmo riuscire a fare Abbastanza ferro Per farlo diventare Dell'oro No ancora Ci manca due pezzi Oh Dannazione Ma perché 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 A me Non mi faccio Sti cazzo di calcoli Ma Aspettate Io mi ricordo Che in qualche modo In realtà Questa si poteva far Diventare Legna In realtà Se non mi sbaglio Come Però Non c'era un modo No eh Mi sa proprio di no Mi sa proprio Di no 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 Niente E Brossi Mi serve ancora Altra legna Cioè Mi serve tantissima Legna Per fare un po' Di ferro Più che altro Per fare l'oro Perché l'oro Il problema Non è il ferro Qua non ne ho proprio Qua neanche Interessante Interessante Brossi Interessante E beh Mi faccio una nannata E vado Torno con la legna E l'unica cosa Che posso fare Ok bro Allora Siamo arrivati Al punto decisivo Proprio della morte Di tutto Di tutti Allora Facciamo diventare Questo un diamante Oh Benissimo Allora Prendiamo Questi diamanti Questa Redstone E li facciamo diventare Questi qua Giusto Perché sono questi Che ci servono Cioè Prima che faccio Una stronzata Mfe Scusatemi Io 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 Energy Crystal Perfetto Ok Allora Un Energy Crystal Due Energy Crystal E altri Due Energy Crystal Più che altro Adesso io non ho il ferro Per Fare il Machine Block Però comunque Diciamo che Volevo portarmi Avanti Più possibile Per Appunto Per poter fare Il tutto ciò Quindi Almeno questo L'abbiamo fatto Allora Detto questo Ci mettiamo Il crafting Qui così Per Essere fatto La prossima volta Ci facciamo Sicuramente L'MFE E poi vediamo Come continuare Con le altre sfide Noi ci vediamo In una prossima puntata Scusate per tutti i tagli Per la legna Ma davvero Non vi volevo far vedere Tutto il tempo Che mi sono messo A tagliare legna Quindi nulla Enjoy E credetemi Nassia con voi Bye bye E lasciate un mi piace Un commentino Ciao Ciao